ciao amici di italia top games buongiorno giovedì 12 agosto konami è tornata ad essere muta sui football oramai ragazzi non credo che arriveranno novità sostanziali prima della games com che annunciato inizio settimana che ci sarà ed è stata una sorpresa sembrava che oramai con ami non ci fosse quindi almeno questa notizia buona c'è però oramai per una decina di giorni mi sa che di football di novità non ne arriveranno spero di tanto di sbagliarmi ma credo che alla games con finalmente un benedetto video gameplay e nuove informazioni mi auguro vivamente che arrivino comunque si va avanti con pes 2021 con quello che è l'ultimo aggiornamento prima in ferragosto e poi il 16 tornerò a mostrarvi le novità allora oggi le novità sono sostanzialmente due le icone del milan i tre olandesi magici che però a me da piccolo hanno dato tanti dispiacere e alla fine degli anni 80 e poi i soliti giocatori in risalto della international cup con ami li vedete qui insieme ai mvp del della ligana ma adesso vedremo tutto in dettaglio intanto io mi sto leggendo qualche articolo su quale sarà la possibile formazione titolare del psg l'anno prossimo davvero tra fifa e pes e di football credo che sarà la squadra più inflazionata indubbiamente che davvero mostruosa mi prendo i miei preparatori esp e andiamo subito a vedere gli iconic moment e i giocatori in evidenza e poi con le mie 240 moneti due giretti me li posso fare mannaggia a me che per nema ross peso una marea di monete e adesso sono di nuovo in bolletta per così dire o c'è anche cubo in cui che ha regalato con ami un paio di occasioni c'è questa versione cd 86 con 58 livelli di crescita se volete cubo poi ci sono tutti i giocatori oro fate voi se vorrei tanto sapere le statistiche di questi di questi icone giapponesi quanti quanti le girano fuori dalla terra del sollevante comunque ecco qua gli olandesi gli olandesi magici marco van basten 94 18 livelli di crescita comportamento offensivo già 97 di base finalizzazione 97 di base possesso stretto 90 e beh che dire di van basten niente giocatore che da un punto di stile tiro secondo me il più forte di pesce dopo non è proprio tra i più rapidi ma è mostruoso rai card 23 livelli di crescita 91 contatto fisico passaggio alto 88 colpo di testa 88 resistenza 89 comportamento difensivo 89 aggressività 90 recupero palla 88 un mediano e niente male e poi root gullit 91 21 livelli di crescita forma fisica 7 su 8 comportamento offensivo 89 controllo palla 90 colpo di testa 89 velocità 88 contatto fisico 90 la versione 91 la mia i miei primi mesi di pes 2021 sono stati caratterizzati da gullit che mi giocava bene in qualsiasi ruolo quindi o giocatore che consiglio vivamente e poi c'è come al solito di tutto un po vari giocatori da tutto il mondo non solo milanisti allora eccoli qua i giocatori della settimana della national dell'international cap challenge di konami gli andiamo subito a vedere in dettaglio chi sono allora c'è duvan zapata duvan zapata giocatore dell'atalanta lo sapete benissimo se ne parla come possibile altro nuovo attaccante in casa inter oltre a dzeko potrebbe arrivare anche zapata staremo a vedere certo non è stato un calcio mercato tranquillo per i tifosi interisti e vedremo come come proseguirà c'è tempo fino al 31 agosto per comprendere un po tutte le mostre delle squadre ma anche anche le altre squadre italiane hanno fatto davvero poco almeno per il momento a parte il milan che ha fatto qualcosina comunque zapata 19 livelli di crescita forma fisica 6 su 8 finalizzazione 7 punti in più arriva 95 comportamento offensivo 4 punti in più arriva a 91 controllo palla 7 punti in più contatto fisico 92 su 96 4 punti in più velocità 88 potenza di tiro 89 elevazione 86 navas 92 il mio incubo navas venti livelli crescita forma fisica 6 su 8 comportamento pt 98 7 punti in più respinta pt 7 punti in più 95 estensione pt 4 punti in più 95 riflessi pt 99 2 punti in più presa pt 7 punti in più 94 morata morata comportamento offensivo 93 8 punti in più finalizzazione 5 punti in più velocità 5 punti in più accelerazione 8 punti in più potenza di tiro 8 punti elevazione 5 punti in più insomma una buona punta 20 livelli di crescita forma fisica però 5 su 8 wijnaldum è era liverpool adesso anche lui psg 22 livelli di crescita forma fisica 5 su 8 non mi fa impazzire se devo dire la verità perché ha vari più 4 anche in resistenza in controllo corpi in elevazione in accelerazione in velocità però non ha neanche un azzurro diciamo che si con 21 può crescere ma neppure 22 tantissimo brozovic 91 21 livelli di crescita forma fisica 6 su 8 controllo palla 88 possesso stretto 7 punti in più 90 passaggio la sua terra 7 punti in più 91 idem passaggio alto tiro a giro potenza di tiro 85 resistenza 92 un po lo stesso discorso di wijnaldum andre silva l'attaccante portoghese 28 livelli di crescita lui cresce un po dappertutto un portamento offensivo 90 dribbling 85 finalizzazione 89 più 8 colpo di testa più 8 sacca o sacca non lo so questo è un giocatore interessa molto 90 parte 48 livelli di crescita ragazzi accelerazione 9 punti in più velocità 6 punti in più controllo corpo 6 punti in più resistenza 6 punti in più passaggio alto 9 punti in più dribbling 9 punti in più e questo è un signor giocatore come centrocampista laterale sinistra nativo c'è qualcuno che mi percura perché sono fissato con il cls ma ragazzi io ho i moduli che sempre utilizzo in cls di cls nativi se ne trovano davvero pochissimi neo house 31 livelli di crescita forma fisica 6 su 8 resistenza 5 punti in più passaggio alto 5 punti in più passaggio la sotterra 8 punti in più come gli altri centrocampisti cioè brozovic e wijnaldum anche lui non mi fa proprio impazzire zuma 89 26 livelli di crescita 5 su 8 la forma fisica contatto fisico 95 elevazione 94 aggressività 92 7 punti in più recupero palla 7 punti in più tutti i giocatori che sono belli pompati ma partendo di base a livelli non elevatissimi non mi fanno impazzire lo stesso per demiral demiral che non è più della juve passata all'atalanta qualcuno mi chiede ma nel frattempo che i football si aggiorni e diventi quasi completo pes 2022 riceverà gli aggiornamenti per la prossima stagione ragazzi non lo so non lo so proprio speriamo che konami dica qualcosa non ho idea di quello che vogliano fare perché effettivamente i football per l'inizio del campionato non sarà pronto sarà pronto se tutto va bene diciamo a ottobre e quindi si avrebbe senso che pes 2021 si aggiorni per il nuovo campionato ma mi dispiace non ho non ho informazioni al riguardo comunque demiral ha 37 livelli di crescita colpi testa più 4 comportamento difensivo più 7 recupero palla più 4 aggressività più 7 contatto fisico più 7 è con 37 alle crescita è più interessante di zuma divev addirittura 40 livelli di crescita colpo di testa 6 punti in più aggressività 6 punti in più recupero palla 9 punti in più col velocità 9 punti in più elevazione 6 punti in più contatto fisico 6 punti in più è interessante questo divev e basta in alla fine a me mi piacciono molto divev demiral e sacca basta gli altri onestamente si zapata non è male però con solo i 19 e lì crescita non è che può far granché ragazzi sapete vi dico faccio solo un giro questa settimana perché almeno mi tengo le monete almeno un giro nelle prossime aggiornamenti lo faccio sempre quindi speriamo di beccare seca vediamo ma tanto becconava se ne lo sento portogallo chiami sandra e con messa andrea silva non andrea gommers e si andrea silva d'accordo ragazzi per oggi per quanto riguarda gli aggiornamenti pes 2021 è tutto oggi pomeriggio ultimo filmato per chi l'ha seguita la carriera di la carriera la modalità storia di formula 1 arriva all'ultimo filmato del della playlist l'ultimo gran premio decisivo così prima di ferragosto concludiamo anche questa serie nei prossimi giorni forse ci sarà qualche filmato di meno spero il 15 di avere una connessione decente per fare un video di saluti e di augurarvi buon ferragosto spero tanto di averla per oggi ripeto è davvero tutto io vi auguro buon fine settimana buon ferragosto già da oggi se magari il 15 non riesco a fare il video outdoor ma spero proprio di sì io vi saluto ancora vi ringrazio ma al solito per l'attenzione se ancora non siete iscritti al canale dai fatelo vediamo di arrivare a 10 mila o giuri lì per quando uscirà la demo di football se volete iscrivervi al canale se volete fare acquisti su amazon passando per il nostro link di affiliazione ci supportate in maniera concreta e anche e anche morale tra virgolette vi ringrazio ancora per l'attenzione e a presto con il filmato di formula 1 con i saluti ferragosto e sicuramente lunedì 16 con i prossimi aggiornamenti di pes 2021 ancora grazie e ancora buon fine settimana ciao